Aprirà il prossimo sabato 2 ottobre l'atelier Damiano Carrara, primo punto vendita in Italia, del noto pasticcere lucchese, conosciuto e amato anche grazie alle sue numerose partecipazioni televisive. Nato a Sant'Angelo ed emigrato appena diplomato prima in Irlanda e poi negli Stati Uniti, dove ha aperto assieme al fratello Massi tre pasticcerie in California, Damiano, forte di queste esperienze, è pronto adesso per un ritorno a casa in grande stile. Sono voluto tornare a casa, ho voluto fortemente ripartire dalla mia lucca. Sicuramente porterò tutta la mia conoscenza dentro questo atelier e porterò un tocco fresco e moderno di una pasticceria che è veramente un pochino diversa rispetto al classico che si vede tutti i giorni. Non a caso il nome del negozio, Atelier Damiano Carrara, al pari dei laboratori in cui gli stilisti confezionano le proprie creazioni di moda, il pasticcere è pronto a dar forma e a firmare torte e praline. Nel fondo completamente rinnovato e in viace vitali trovano impiego 13 dipendenti e in futuro lo spazio si presterà anche alla formazione, con lezioni dedicate a professionisti e semplici appassionati. Damiano promette un continuo rinnovamento della linea sulla base delle disponibilità stagionali e del suo estro creativo, che gioca anche sul combinare l'innovazione alla tradizione, in particolar modo quella lucchese. L'orto di casa mia è la torta coi vecchi lucchese, rivisitata in Cava Moderna, c'è una terra di cioccolato e le vietole sono rappresentate con il cioccolato, cioccolato bianco colorato, che rappresenta proprio l'orto, l'orto di casa mia, della mia città e della mia terra insomma.